Allora si imballò, dice una trattola di me e la mamma preoccupata disse vattene a Belair, non ho pregato, scongiurata madre stia vuole che vada ora ho fatto le valigie e ho detto va per la tua strada dopo avermi dato un bacio e un biglietto per partire con lo sterro dell'orecchio ho detto qua meglio sgommare prima classe, ma non sballo bicchieri di cristallo se questa è la vita che fanno a Belair per me io ho do Belair ho chiamato Taki Giallo quando ho visto quella data era un po' un'auto si sentivo un casato